Buonasera a tutti e benvenuti. Andiamo avanti a parlare di scuola. Ne abbiamo parlato ieri, ne parliamo anche questa sera. Arriviamo subito al dunque. Scuola di Palermo, bambini che entrano a scuola tutti con il rosario al collo. Accaduto qualche giorno fa a Palermo, scuola elementare, se non sbaglio, scuola elementare, una sorta di protesta dei genitori. Protesta dei genitori perché? Perché a detta dei genitori, ma questo è il dato di fatto, di questo si è parlato anche sui giornali abbastanza pesantemente, anche perché si avvicina poi il Natale e c'è tutto un ragionamento ormai antico nelle scuole dell'obbligo, statue sacre tolte dalla scuola pubblica, delle statue e dei quadri, se non sbaglio, con l'effigio e il volto di Papa Francesco, sarebbero stati tolti dal dirigente scolastico di questa scuola di Palermo. Da qui i genitori che si lamentano, i genitori che protestano e per ripicca e per protesta bambini il giorno dopo a scuola con tutti il rosario al collo, che sono anche simpatici se non altro da vedere come immagine. Ora qui il discorso e poi si interfacciano ovviamente dirigenti scolastici, organi superiori dello Stato, quindi sottosegretari, si parla di libertà, si parla di invece ideologia da parte di chi ha proibito tutto questo e iniziano le solite trafile, il solito bailame che ci riporta ancora indietro di tanti anni al crocifisso sì, crocifisso no, nelle scuole, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2011 che comunque autorizza il crocifisso nelle scuole, considerandolo in buona sostanza un punto di riflessione, un punto di cultura, un punto di storia e non una sorta di guerra di religione, di ideologie per crocifisso, non crocifisso, musulmani, ebrei e tutto quello che volete voi. Dall'altro lato il provveditore o il dirigente scolastico se non sbaglio tira in piedi un parere dell'avvocatura dello Stato dove si dice che comunque sono esclusi gli atti di culto nell'orario scolastico compresa l'ora di insegnamento della religione cattolica e va bene. Ma però io dico capisco tutto questo, ma il buonsenso dov'è? Abbiamo tolto tre statue della Madonna che stavano bene lì dove stavano e magari erano lì da tanti anni, abbiamo tolto le fotografie di Papa Francesco, ora non ne faccio veramente una questione religiosa, sapete benissimo che l'approccio che cerco di avere in tutto questo è molto spero equidistante da vicende o da momenti di passione sfrenata per l'una o l'altra situazione, quindi la libertà, l'ideologia, la religione, sia la religione, si può fare o non si può fare. Sinceramente ritengo che forse un po' di buonsenso possa aiutare in queste vicende a risolvere determinate situazioni. Ora, se non vi sono degli obblighi, se dei bambini in una scuola non vengono catturati, raggruppati, messi tutti seduti o messi tutti in ginocchio sui ceci a pregare e si viene o viene impartito dovete dire questa preghiera, dovete fare questo, perché così, perché colà. Ecco, se non ci sono queste situazioni che sono ovviamente situazioni non corrette e ingiuste e se qualche bambino o se qualche mamma o se ci sono famiglie che hanno più voglia di dedicarsi al soprannaturale e quindi alla religione cristiana e quindi a quanto altro e senza essere invasive lo fanno o nessuno si sente obbligato a fare questo e lo si fa spontaneamente, lo si fa per qualche minuto e poi inizia la scuola e si va e abbiamo finito. La proibizione non è così, dico di buonsenso, ecco, non ci vedo, non ci vedo la soluzione. Togliere la statua della Madonna che è lì e che non faceva male a nessuno e chi la vuole venerare o chi vuole dire una preghiera passandoci vicino che lo faccia e chi non lo vuole fare non lo faccia e non si sente offeso. Che male aveva o che male potrebbe mai aver fatto nel corso di 10 anni a questa parte, 20 anni, 30 anni, da quanto tempo è lì? La togliamo per dimostrare che cosa? Se non altro dimostriamo una certa rigidità forse eccessiva nel dare certe valutazioni, tant'è che poi così ci sono espressioni divergenti fra dirigente, sottosegretario, istituzioni e quanto altro e andiamo ad alimentare coloro che allora poi parlano di guerra di religione, degli islamici, ci stiamo facendo invadere, arriveranno loro, ci obbligheranno loro a leggere il Corano e anche qui entriamo in un altro mondo che non c'entra niente. Il buonsenso, il buonsenso è sempre da utilizzare, i bambini con il rosario mi fanno sorridere, quindi non la considero né una vittoria né una ripicca né quanto altro. La foto di Papa Francesco, vabbè, lì è tutto un discorso istituzionale di rapporti Stato-Chiesa, lasciamoli perdere, ma la Madonnina che è lì, ma lasciamola lì. Ma che male vi fa? Grazie.